Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Come potete vedere siamo in compagnia di Blackberry Classic, ci è appena arrivato, lo stiamo aprendo con voi, andremo a fare un unboxing velocissimo di questo prodotto. Ricordo che gli unboxing sono fatti per capire che tipo di prodotti abbiamo in mano e quindi che tipo di domande porci a cui rispondere nelle recensioni poi approfondite in modo da rispondere già nelle recensioni a domande che voi avete oltre che poi nei commenti. Apriamo e subito troviamo il Blackberry Classic che devo dire veramente elegantissimo, abbastanza pesante come dispositivo, molto compatto, costruzione veramente solida e questo telefono poi lo guardiamo un dopo. Abbiamo la clipettina per andare a togliere carrellini per sim e micro sd suppongo, abbiamo poi le nostre cuffiette che sono cuffiette di qualità ottima, le solite Blackberry, andremo poi a testarle effettivamente nell'utilizzo e ne parleremo nella recensione. La classica manualistica di Blackberry, non ci interessa, veramente tantissimi fogli e poi abbiamo il nostro cavo micro usb usb per la ricarica e il nostro caricatore europeo da 850 mAh, quindi sembrerebbe una ricarica abbastanza lenta per il nostro dispositivo. Questo è quello che troviamo all'interno della scatola, andiamo a prendere il dispositivo, abbiamo il nostro schermo touch con il pulsante che ritorna ad essere presente all'interno del Blackberry, oltre a tastiera QWERTY, abbiamo poi il pulsante power e i due microfoni per la soppressione dei rumori sopra, oltre al jack per le cuffie. Sulla parte sinistra abbiamo lo slot per la sim e lo slot per la sd, sulla parte inferiore abbiamo due casse stereo e l'ingresso micro usb per la ricarica, sulla parte destra abbiamo il volume rocker con il pulsante per il voice control. Sulla parte dietro abbiamo la nostra fotocamera con singolo flash led e nient'altro, la cover ha un buonissimo grip, è zigrinata, non so se si riesce a vedere da questa inquadratura. Andremo poi a testarlo nei prossimi giorni in maniera più approfondita e andremo a fare una recensione completa anche di questo dispositivo. Bene, è tutto per questo unboxing, qualsiasi tipo di domanda fatecelo nei commenti in modo da poter poi rispondere nella recensione completa. Ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio Hightech.